Per la festa della Repubblica e anche domenica i negozi saranno aperti a Caltanissetta e la festa dello shopping in vista delle celebrazioni per i 72 anni della Repubblica. Negozi aperti dunque sabato 2 e domenica 3 giugno. Alcuni commercianti hanno anche allestito come consuetudine ogni anno le vetrine in omaggio del tricolore delle forze dell'ordine come segno di promozione dei valori nazionali, un'iniziativa simbolica per testimoniare la fedeltà alla Repubblica. Grazie a tutti.